1, 2, 3, ansia, nella nostra testa, speriamo di far festa baby L'esordio così ci voleva scusate, voi ve lo godete eh, voi ve lo godete, noi invece soffriamo come dei cani Io l'ho detto, non mi nascondo che la partita psicologicamente più difficile da affrontare Era quella di Verona, e ce l'abbiamo fatta, oggi è la partita fisicamente più difficile Da la Lazio in poi, compresa la Lazio secondo me è l'avversario piuttosto Però ce l'abbiamo fatta l'anno scorso all'ultima di campionato Ce l'abbiamo fatta a ottobre con una giusta mentalità, dobbiamo farcela, abbiamo il dovere ragazzi Dai, la domenica più intensa degli ultimi 57 anni E che cazzo, dovevo esistere io in questi, cioè 57 anni, no, 22? Cioè non poteva succedere 25 anni fa, no Che bella la partita sul 43 pollici, porca puttana in 4k Prima la facevo su un Mac, uno schermetto così, che cazzo Che ansia, che ansia, che ansia, che ansia Orsato, 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 orsato Comunque, Crunice trequartista Tanto insultato, ma poi comunque Il suolo fa sempre, eh Dai Gasperini, se una stagione giochi Europa League non piange nessuno, eh, dai, dai Ok, vedo un raddoppio di Derun e Palomino su Giroud impressionante Se le makers a Giroud C'è anche Leao Se le makers Si va bene ma portala No ragazzi, però, ste cose Ste cose, ste cose, ste cose, ste cose, ste cose Ter, Nantes, Ceratonali, libero Non gliela ha data Quando gliela ha data Era rientrato difensore dell'Atalanta Uno La palla comunque di scappuzzo Di discappellaggio Arriva A se le makers Che può dar la Giroud Non gliela dà Buca due difensori Può tirare Non tira Allora, non stiamo giocando male Per quello che ho visto finora Però Manca sempre Manca sempre Quella virgolina sottoporta Nooo Palla dentro per Zappacosta Se li dribbla Zappacosta Pasalic Arcini è Statalanta ragazzi Bello C'è Tonali Ternandez Tira col destro Tiamo a mandare Tonali in porta Ste sviste Sta sufficienza davanti Non è scontato Che i difensori Ti lasciano passare Non so se l'hai capito Per Krunic C'è anche Kalulu Krunic Non sa cosa fare Fa La dadderon C'è proprio Tutto quello che non doveva fare Tonali Vabbè Allora Bicchiere mezzo pieno Sta giocando meglio Bicchiere mezzo vuoto Meritiamo il vantaggio No Calabria Hai rotto il cazzo Già mi hai toppato Verona In una maniera incredibile Il gol è praticamente colpa tua Il gol preso Va detto Krunic La mette giù Krunic Bella per Leao Eh ma sono entrati Leao Gira Primo tiro in porta 20 minuti Va bene La stai sentendo la partita Nooo Meignan quarto rinvio lungo Quarto rinvio che finisce a musso Incredibile però c'è E ok che ci abbiamo fatto diversi gol Con sti lanci lunghi Anche quello annullato a Verona Però C'è se c'è delle soluzioni Di costruzione dal basso Soprattutto in contropiede Usale per favore Tomori perché non hai Attaccato a linea di passaggio Muriel Una cosa fatta bene Da Calabria Ma quanti paloni avremmo perso Ripartendo ragazzi Krunic Sta facendo una partita Incredibile Sale Makers Invece che fare Il vigile Vai a coprire Muriel Muriel Altra cagata di Calabria Zappacosta Lo rincorre Calulu Cup Miners Ariemio dal fondo Grandissimo Tomori Calulu Altra cazzata Di Calabria E anche Ternambis Non scherza però Cazzo T'allunghi La palla è difesa Atebur Muriel Megna Cosa ha preso I due terzini ragazzi Oggi mi stanno veramente Facendo saltare i neuroni Leao Calabria Bello Non tirare Se le Makers Tira Vabbè Lasciamo stare Lasciamo stare Io mi chiedo Perché ci siano da fare 385 azioni Tanto altra stronzata Di Calabria Perché ci siano da fare 385 azioni Prima di fare un gol Bello che si Per se le Makers Non fa stronzate La fa La fa La fa Che Tonale è un metro E fa la stronzata Se le Makers Basta Zappacosta Al destro fuori Se le Makers Già tre volte Che fanno i veli Tre volte Che non trovano Il compagno Si lamenta Calabria Ancora per l'intensità E perde Palla Calabria Era una fase Di gestione Da solo Da solo La dà Muriel Ma gliela passa Come se fosse Un suo compagno E questo È questo il problema È la sesta Volta In questa partita Ternandez Bella 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 non fa stronzate La dà A se le Makers Le hao da fuori Palla curva Tomori Va a cercare Il taglio Tomori Jim City Non ce lo danno Il rigore Non ce lo danno Non ce lo danno Non ce lo danno A noi Il rigore Non ce lo danno Tranquilli Che non ce lo danno E cosa ha dato Ha dato Rimessa Dal fondo Incredibile Non ci fischiano Un cazzo Le hao Le hao Si tira da 100 metri Hanno anche ammolito Giru per proteste Aveva ragione L'hanno anche ammolito Dobbiamo pagare la tassa Per i rigori Dell'anno scorso Ah beh Allora l'Inter Dal prossimo anno Non deve avere rigori Per 12 anni Cioè se questo è Il paragone Tre cambi Da fare subito Florenzi Benasser E Rebic Subito Fine primo tempo Solita musica Inizia il secondo tempo Di sto strazio Battiamo noi Dai 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 Muriel Zappacosta siamo in area Zappacosta siamo in area Zappacosta siamo in area Zappacosta siamo in area Angolo Non riesce ad uscire Col palleggio Mamma mia Giru Si fa anticipare Da tutti Vabbè dai Siamo arrivati allo scherzo Proprio Anche lì Calcio d'angolo Sei da solo Perché la lasci uscire Il motivo Per cui La lasci Uscire No non puoi Far gol di lì Ternandez Da quella punizione Non puoi Piuttosto Mandaci tonali Ternandez Ma dalla parte esterna Dando l'illusione Del vantaggio A San Siro L'invio Mamma mia Dentro Rebic E Messias Per Giru e Sele Makers Ok Rebic farà la punta Per forza Fuori muri Dentro Duvanzapata È vero che Duvanzapata Non gioca da una vita Quindi bene o male Malinoski per Pasalic Mi preoccupa Rebic Eh ma devi passarla La palla va passata Si gioca in undici Se no vai giocare a tennis Se giochi da solo Cazzo Anzi neanche Perché a volte Il tennis giochi anche in due C'era il torneo a Roma Bastava prendere un tennis E scriversi a quel torneo lì Se non devi passare la palla Di Ruslan Malinoski Qua il guizzo Di Pessina Orsato dice Che non c'è stato Un contatto tale Da portare Alla calcio in punizione Dall'altra parte Bella Leao 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 Siiii Raffaeleao Andiamo Leo meraviglio Chiamaci per telefono Andiamo Chiamaci per telefono Leo meraviglio Sotto le gambe A musso Andiamo Cazzo Se ce l'annullio Ti ammazzo Se ce l'annullio Ti ammazzo Andiamo Rafa Andiamo Rafa Andiamo Rafa Chiamano un fallo Che non c'è ma Che può esserci Ma L'hanno Valutato Il No si è lasciato cadere Si è lasciato cadere Dai Boni Boni Che quando si tratta Di annullare goal al Milan Siamo i campioni Siamo i campioni Quando si tratta Di annullare goal al Milan Vedere Maldini E Nesta Che esultano Se gol verrà convalidato Non ha prezzo Su Che De cazzo Far di merda Andiamo Non c'è fallo Andiamo 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 Ragazzi Che si Starà giocando Per tirare il cartellino Ma Questa partita Che si Ragazzi Non Gli posso Dire Niente Questa partita Che si Io Devo Mutarmi Devo mutarmi E adesso Caro Milan Caro Milan Non chiudiamoci Difesa La partita è lunga Manca mezz'ora Manca mezz'ora Non sminchiamo tutto Cerchiamolo il 2 a 0 Che se sti qua fanno l'1 a 1 Poi È tosta È tosta È tosta Dai che stiamo giocando meglio Dai Messias Malinoski Zappata Zappata Fuori Andiamo Dai 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 Toglie Toglie tonali Vabbè Dentro Benaserra fuori tonali Ma ragazzi Benaserra è un centrocampista della madonna Questo è lo stupore di Pessina Sull'episodio Pessina Zitto Pessina Zitto Motomotomotomoto Non mi devo che si giocare così Non ti dico dall'anno scorso Ma poco ci manca Davvero Io l'ultima partita giocata bene Da che si Che ricordo È quella contro la Lazio Si soffre Si soffre 22 minuti per il Cuppo Dai Dai Pessina Dai 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 È la fine Perché Leao sta facendo per tutto l'attacco praticamente Bello Teo Hernández Teo Hernández Teo Hernández Mamma mia Che cosa ha fatto Costo Costo Teo È tornato Teo È tornato Teo Ed è festa grande E ce lo meritiamo E ce lo meritiamo E ce lo meritiamo E ce lo meritiamo Cazzo È tre partite che ti insulto Testa di minchia Vedete l'intelligenza Di avere gli avversari ammoniti Che non possono fare fallo È così che vi voglio È così Incazzati neri E adesso per me l'Inter stasera può fare quel che vuole Se non vince è meglio Non lo butto via Un brutto risultato Da parte loro Per me possono fare quello che vogliono Bacaio con Florenzi Grazie Si rivede Baca Oh non fa strozzate Perché ti ammazzo È uscito Calabria C'era tranquillo prima Adesso sono ancora più tranquillo Bacaio con il 18-19 Era un gran giocatore Vabbè È vero che anche per il livello medio della squadra che avevamo Cioè ragazzi Giocavamo con Bigli a centrocampo Dai Che sì Era un terzo di quello che è adesso Interista vaffanculo Interista vaffanculo Interista vaffanculo Interista vaffanculo Si può cantare? Si può cantare? Me lo concedete ragazzi? Leo poveraccio non ne ha più Theo come ha visto Leo Messias 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 Mamma mia quanto è scarto sto qua Florenzi Florenzi Rebic ancora lì Rebic Rebic Noo che parata ha fatto Musso Mamma mia che parata ha fatto Musso Palla per Bogat Theo Hernandez ancora lì Zapata Grande megnanna Grande megnanna ragazzi Mamma mia megnanna Mamma mia megnanna Come fallo di mano Dai no vai 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 Vieni Grapparsi a lui e non riesce a fermarlo Mali Benasera Malinos Kiku Mainers C'è Ancora Picaio Tomori Che sì Prova a mantenere lì il pallone C'è Bogasso di lui Che sì c'è fallo Finisce qui Muti 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 Inferiori Muti 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 Zitti E continuate a gufarci Perché noi Con le vostre gufate Ci si riempie la pancia Andiamo Ci vediamo per Sassuono Milan No No